Ciao ragazzi, oggi vi voglio parlare di caffè veronesi che mi ha inviato queste capsule. Ovviamente io ho scelto compatibili con la lavazzamodomia perché appunto la macchinetta lavazzamodomia. Allora, qui abbiamo un espresso decaffeinato, il caffè non è superiore al 0,10%, questo è perfetto per chi come me si prende il caffè la sera e non vuole comunque esagerare con la caffeina. Ci sono 12 capsule, poi abbiamo qui l'espresso argento che è comunque a un'intensità 11, quindi né troppo forte né troppo debole come il caffè, ed è perfetto perché è cremoso e persistente. Poi qui abbiamo l'espresso rosso che ha un'intensità 13, che è quello comunque più forte ed è appunto ricco e corposo. E dopodiché abbiamo quello là, espresso oro, che è quello intenso con carattere ed è quello che comunque è amante del caffè che noi amiamo. Il caffè si trova all'interno di queste piccole buste monodosi per proprio mantenere la freschezza e l'integrità della capsula stesso.